Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e quest'oggi andremo ad estrarre il fortunato vincitore di questi 50.000 crediti, di questo contest che abbiamo fatto qualche giorno fa, che è chiuso ragazzi come state vedendo, sono le ore 16 e 11 di pomeriggio, quindi di questo pomeriggio dell'11. e ho chiuso il contest appena un istante fa, quindi andremo a verificare chi di voi, un solo vincitore ci sarà di questo contest, quindi andremo a verificare chi di voi avrà vinto questi crediti FIFA, andiamo a verificare, abbiamo 36 mi piace, ho messo anche il mio mi piace, ragazzi c'è un mio mi piace, mi metto il mi piace da solo, era giusto per cazzeggiare, comunque sia, abbiamo dei commenti ragazzi, abbiamo 124 visualizzazioni, commenti, abbiamo 44 commenti, quindi che cosa andremo a fare? andremo ad incollare questo link, nel sito apposito, andiamo ad aprire Google, andiamo a selezionare il sito, ok, quindi italiano A, ok, pronti ragazzi, andiamo ad inserire il nostro HTTP del video, e andiamo a caricare i commenti ragazzi, come state vedendo, ha trovato il video, video, page e cazzetti vari, insomma, user like e cazzi vari, non si sa che, perché, comunque, e quindi nulla ragazzi, cosa ci resta da fare? Di andare a vedere chi è il vincitore, quindi andiamo a vedere, andiamo a verificare, vi voglio tenere un po' sulle spine ragazzi, vi voglio vedere, vi voglio tenere un pochino sulle spine, prima di schiacciare questo tasto, prima di schiacciare questo tastino qui, allora, vi dicevo, allora, come sapete, prossimamente farò anche qualche altro contest, e quindi andrò ad estrarre il vincitore, avevo detto che questo vincitore l'avrei estratto in live, però come avrete visto, non sono riuscito a fare uno streaming, c'ho un cazzo di problema sul PC, non so, non mi carica un plugin, e automaticamente non mi fa fare lo streaming, ho un problema con sta merda di Windows 8.1, quindi non lo so, e quindi ho fatto il video ragazzi, state vedendo che è tutto alla luce del sole, quindi non è che ci sono tagli, sentite la mia voce che è continua e tutto il resto, vi faccio vedere anche l'orario che state vedendo, sono le 16.15, sempre al solito giorno, vabbè regà, non verrà un po' più le palle, andiamo a estrarre questo vincitore, e clicchiamo, vediamo chi ha vinto, vediamo chi ha vinto, mister turiddu, mister turiddu, che è iscritto al canale, e che comunque partecipa per il contest dei 50.000 credit, quindi ragazzi, per questo contest, diciamo, non sono riuscito a farlo in live, ma il prossimo contest, cercherò di farlo in live, in maniera tale che possiamo stare insieme, comunque, mister turiddu ha vinto 50.000 crediti, può contattarmi su PSN, e nulla ragazzi, penso di aver detto tutto, il video, come sapete, è questo, mister turiddu, aveva commentato, eccolo qui, anche partecipo, era scritto anche sopra, e quindi nulla ragazzi, detto questo, un saluto da Maxi, e al prossimo contest ragazzi, ci vediamo tutti al prossimo contest, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti,